Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo video news in cui voglio riportarvi le ultime novità che interessano direttamente l'universo di Destiny. Innanzitutto la scorsa settimana insieme al Raid è iniziata anche l'offensiva Vex che tra l'altro sto già preparando un video a riguardo visto che non ne ho ancora parlato qua sul canale e a metà novembre dovrebbe arrivare l'atto finale in cui si dovrebbe sconfiggere la mente intramontabile. L'avevo predetta sta cosa, a quanto pare ci ho preso veramente o ho dato un'occhiata ai trionfi. Comunque, primo annuncio semplicemente se non l'aveste ancora guardato, se non l'aveste loggato in questi giorni, beh c'è l'offensiva Vex da sbloccare una modalità a sei giocatori con matchmaking e alla fine molto simpatica per quanto non particolarmente complessa. Poi parliamo del crociolo e parliamo delle munizioni pesanti. Recentemente c'è stato un update a come vengono gestite le pesanti lato server, quindi sia le tempistiche che quante munizioni vengono effettivamente date, ma Bungi ha già detto che sono previsti dei cambiamenti anche per quanto riguarda la modalità competitiva, ossia sopravvivenza. È un piccolo ritocco, personalmente penso che serva. Ma passiamo alla vera notizia importante di questo video news che, probabilmente quello che stavate aspettando, torna allo standardo di ferro. Inizierà il 15 ottobre alle ore 19 italiane e terminerà come al solito una settimana dopo, il 22 ottobre, e disponibili ci saranno i nuovi set d'armatura che sono quelli che vedete in questo momento. E ci saranno anche delle modifiche alle quest, o quantomeno ai modi per ottenere il nuovo equipaggiamento, armi o armature che siano. Innanzitutto ci sarà un incarico stagionale, quindi una questline che dovrà essere completata prima di poter dare i pegni a Saladin. Questa quest non è per account ma per personaggio e ogni fase ricompensa con armi o armature dello standardo di ferro. Inoltre ci saranno ben 4 taglie che offriranno ricompense di punta, quindi utili per arrivare fino al 960 di potere. Il consiglio su queste qui è di completarle il più in là possibile perché vi serviranno proprio per compiere l'ultimo passo dal 950 al 960. Chiaramente se foste al 900 o 910 ve ne manca ancora di strada utilizzatele direttamente, ma se foste ad esempio al 945 cercate di completare prima tutto il resto e poi riscattatele. E con questo ultimo punto terminano anche le novità che avevo da riportarvi. Dunque ragazzi per quanto riguarda questo video news è tutto, come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento, vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!